ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Loonitoons penso che farò una clip video per tutti gli altri episodi quindi che dire spero che il video vi piaccia intanto con mia mamma che passa dietro di me io vi auguro buona visione e ci vediamo durante il gameplay a tra poco ok ragazzi ho raggiunto il livello 30 e ho sblocchiato una nuova nuova funzione qua non so cosa sia vediamo un po cos'è c'è un attacca ah ma sono dei livelli sono dei livelli va bene opps nuove ruote da girare ragazzi una ruota spettro fantasma ruota fantasma wow cosa sarà mai nuovi bonus sì certo sarebbe un ton del genere con la fortuna che ho io è un evento è un evento è un evento è un evento guardate quanti nuovi personaggi wow bellissimo bellissimo top sì nuovi livelli due o tre demoli nuovi livelli wow che bello ragazzi è un evento che dura due giorni mi sei ingrato di vedere probabilmente ora che sto registrando quest'audio l'evento sarà già scaduto wow guardate quanti quattro nuovi mondi tutti spettro wow proviamo subito allora cosa sono quelli dei flauti proviamo subito subito ok ho vinto ragazzi ho vinto wow quanti premi che sono riuscito a riscuotere ok con un nuovo combattimento mi hanno già fatto fuori un personaggio mangiando il diavolo sì ma dovrei comunque sia trionfare forza bugs fallo fuori no esiste adesso ciao ok no ancora ciao adesso c'è un altro personaggino che non dovrebbe essere così complicato ciao 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 che fuori perfetto molto bene 2 stelle e tanti strumenti per me c'è bello che si abbiaermeli sequestr un'altra musica. Allora direi di proseguire un po' nei nuovi livelli, nei nuovi atti, così come sono chiamati. Vediamo un po'. Ok, qua sono già di svantaggio. Aiuto? Meglio di no? Meglio di no? Wow, questo evento qui mi è capitato per caso domenica, non so a cosa si è dovuto. Ok, ho vinto, nuovi strumenti. Ops, quanti lunei? Io preferisco questo qui, bibit e spettro. Anche il terzo in altro non è male. Ok, proviamo, vediamo gli altri atti. Ia, questo qua è un po' impossibile da fare. Questi qua è un po' impossibile, sono fortissimi. 26, 26, 26. Non posso nemmeno schierare i miei personaggi, madonna, ma cos'è sta cosa? Ma cos'è sta cosa? Non è giusto? Ok, vediamo. Oh, chi è quel personaggio? Chi è quel personaggio? Ok, proseguiamo. Mamma mia, non ho parole. Giuro. Dai, facciamoci la squadra e proviamo a sfidarlo. No, non è quello. Che è un personaggio che l'hai visto una volta scorsa. Utilizzo l'unico, ok. Wow, ma è un titty enorme, titty mostre si chiama. Titty mostre si chiama. Vai enorme, già, a differenza di titty, questo qui è veramente extra large. Ok, intanto l'ho fatto fuori. L'ho fatto fuori, è stato anche facile da far fuori. Qui abbiamo vinto, i personaggi, gli altri li conoscevamo già. Quindi ho skipato. Ok, proseguiamo qui. Prossimo incontro. Ok, ho vinto, titty, ho fatto. Tanti strumenti per me. Eccolo qui il nuovo personaggio, vediamo. Vediamo. Mmm, gli faccio poco danno. Faccio poco danno. bellissimo. Oh, mi sta facendo fuori. Mi sta facendo fuori con gli incontri. Vai. Via, penso di fargli di più. Dai, fargli tanto male. Mmm, gli sto togliendo, voglio dire. Mi sto togliendo. Ok, siamo uno qua. Siamo uno qua. Ah, sono in vantaggio loro. Oh, che mossa, me. Che mossa, che mossa. Dai, cosa ha fatto? What? 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 Ok, dai, è quasi fuori. Dai. Ah, brutto il colpo, brutto il colpo. Forza, forza. Buono fatto di caricarsi. Ok, no, ho perso. Managgia. Eh, vabbè. E vabbè. Davo un'occhiata all'ultimo? L'ultimo stage? Sì, certo, livello? Livello 40. Livello 40? Ma stiamo scherzando? Livello 40. Proseguo con questo? No, non ci riesco. Vediamo che tu ne riesco a riscuotere. Non vai da in parte. Forza. Ah, vabbè, questi film, ragazzi, mi interessano qualsiasi tanto. Mi interessano quelli di spettro. Il tune spettro. Ok, gira e ruota. Ho più di 100 flauti. Dai! 9, 9, 10 su 100. Sì, certo. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ok, qua presiamo gli strumenti. Perché è arrivata la serie d'argento. Wow, c'è d'argento, ragazzi. Prima volta. È la prima volta. Ok, poi, ancora la ruota, già. Esperiamo bene. C'è dei biglietti dorati. Io spero di rispondere questo bit, 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 bit. Spettro. Forza. Biglietti dorati, dai. Gira, 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 gira. Dai, 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 dai. Nooo. Ma stiamo scherzando. Capi il personaggio che mi piace di meno. Tra tutti, proprio lui, devo rispondere. Foggo al mostro. Ma perché? Ma perché? Nooo. Dio, mio, mio, nooo. Non lo alleno nemmeno, lo lascio lì. Tanto non mi piace quello. Sarà anche forte. Ma se non mi piace, non penso che lo prenderò mai. Lasciamolo lì. Vabbè, lasciamo lì. Abbiamo sfruttato anche la sua parte di mondo. Vabbè, alla fine non mi interessa. Quindi, tra tutti quelli che c'è, ho anche più quello. Wow. Che sfiga che ho. Ok. Siamo già a otto minuti. Giochiamo ancora un po' fino allo scadere di questo evento. Come stavo dicendo, io probabilmente, a ora che sto registrando quest'audio, l'evento è già scaduto. E ci sarà mai riuscito a riscuotere un tunnel spettro. Ma... Stavamo a vedere la fine dell'episodio. Ok, devo dire che il mio nuovo personaggio lì fa veramente tanto danno. Questo dinosauro. Quello che scotta i nemici scotta. Ok, ho fatto poi due. Dove uno. Addio, purtroppo. C'ho rimasto le penne. Ok, vorrei comunque sì avere vinto. Vittoria. Perfetto. Le stelle. No, tanti strumenti. Lo seguiamo. Serie argentino, gli strumenti. Tanti strumenti. Scalo le classifiche. Scalo le classifiche. Qua seguiamo. Ormai non posso più fare nulla, perché non ho più nulla, non ho più biglietti, non ho più... flauti. E... Vediamo. Sono riuscito a rispondere un po' di flauti. Dai, forza. Forza, 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 forza. Oh, ma 15 su 100, dai. Forse queste cose sono anche possibili da rispondere, la differenza di questi. Va bene. Un atomizzatore. Carico. 25. Dai, forza, forza, forza. Ancora questo. Mamma mia, è un incubo. È un incubo questo personaggio. Altro che vale. Non credo che posso riscuotere altri strumenti da con biglietti dorati. Vediamo cosa mi tocca. Speriamo in bene, insomma. Speriamo in bene. Mi ho tre giusti giusti da riscuotere. Dai, forza. Forza, giro. Speriamo in questo personaggio, anche se... Preferisco un biglietto spettro. Dai, forza. Forza, 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 forza. No, no, dai, ma non ci credo. Due volte. Due personaggi che non mi interessano. Dai, ma uffa, ma che scatole, ma che scatole. Ok, ragazzi, eccomi qua, un nuovo personaggio di cui non me ne faccio assolutamente nulla. E, vabbè, niente, non alleno nemmeno. Non alleno. Purtroppo, la mia fortuna è sempre quella. Ah, vabbè. Magari è un evento che si pone più avanti, non lo so. Io spero che se così fosse un... Certo, un Yokei, stavo dicendo. Un spettro in tasca. Speriamo almeno. Vabbè, aumentiamo di grande i nuovi personaggi che magari potranno potranno essere utili più avanti. Non lo so. Spero di no, effettivamente, perché se dovesse usare un personaggio del genere capite che sono un po' alla fine. Ok, terza sterna per il nostro mostro. E niente, ragazzi, adesso l'evento è scaduto. Speriamo che si riponga in futuro. Grazie per la visione. A tra poco. Spero che anche questo episodio vi sia piaciuto. Se così spollicciate, se non siete iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. OL! Bye, ragazzi! Ciao! 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 Grazie a tutti